Una giornata per promuovere, consolidare e ampliare la rete tra il mondo del lavoro e l'università orientando le scelte professionali di studenti e neolaureati. A Campobasso di nuovo in presenza per favorire i contatti con le aziende, un elemento chiave per le attività dell'università degli studi ma anche per il posizionamento stesso dell'Ateneo. La giornata ha lo scopo quindi di creare un ponte con il mercato di lavoro e il mondo studentesco di laureandi, laureati e dottori di ricerca. È un'opportunità esclusiva per costruire un incontro tra domanda e offerta di posti di lavoro in aziende regionali, nazionali e internazionali. I colloqui con le aziende partecipanti sono riservati a tutti gli studenti Unimol degli ultimi anni di tutte le lauree triennali, magistrali e specialistiche ai laureati, ai dottorandi e a chi ha conseguito un master all'Università del Molise. C'è anche una nuova opportunità che differenzia l'edizione di quest'anno. I primi 50 studenti che parteciperanno saranno gli ospiti all'evento Imprenditori si diventa l'opportunità per mettersi in proprio. In programma domani organizzato e gestito da Invitalia con la collaborazione del Molise Contaminazio Lab nella sala Enrico Fermi della biblioteca di Ateneo.